Eravamo rimasti al nostro filamento trascritto di RNA. Vi faccio notare che trascrivere il filamento è qualcosa di molto diverso da tradurre perché di per sé l'RNA polimerasi e l'RNA messaggero potrebbero anche non conoscere la lingua del DNA che è una lingua che utilizza un alfabeto di basi azotate. Semplicemente si occupano di trascrivere queste ricette, questa ricetta che serve in quel momento. Allora, questa ricetta copiata a questo punto abbiamo detto deve passare nel citoplasma per arrivare ai ribosomi. Quindi esce dal nucleo e va a collocarsi in corrispondenza dei ribosomi. Perciò la ridisegno qui sotto. Ecco qua il nostro filamento di RNA con la sua sequenza G, G, C, U, U e A. Che cosa succede a livello di questi ribosomi? Succede che dal linguaggio del DNA e dell'RNA, quindi dal linguaggio degli acidi nucleici, che è un linguaggio di basi azotate, bisogna passare al linguaggio delle proteine, che è un linguaggio invece di amminoacidi. Per fare questo passaggio, i ribosomi, che sono delle molecole fatte da due subunità, una più grande e una più piccola, che leggono le informazioni riportate sul filamento di RNA, hanno un aiuto da parte di un altro tipo di RNA, che è l'RNA transfer o RNA traduttore. Questo RNA traduttore lo possiamo immaginare come un uomo che ha due teste, una testa che parla la lingua degli amminoacidi e una testa che parla la lingua degli acidi nucleici. Allora, cosa fanno questi ribosomi? Beh, semplicemente cercano nel citoplasma della cellula le molecole di tRNA che riportano un'informazione di basi azotate complementare a quella che è riportata sul filamento di RNA. Quindi, per esempio, nel caso di questo filamento, leggono GGC, che è una parola, perché voi sapete che ogni tre basi azotate il DNA sta esprimendo una parola. Ecco qua, GGC è complementare a CCG. Perciò prendono la molecola di tRNA e la fanno combacciare al filamento di mRNA. In questo modo si sono portati dietro anche il primo amminoacido che serve. Amminoacido che è un po' come il primo ingrediente che ci serve per cucinare la nostra proteina. Dopodiché cerca un'altra molecola di tRNA complementare alla parte successiva di informazione, che è UUA. La parte complementare sarà AAU, perciò prende la molecola di tRNA e se la porta dietro e la fa combacciare alla porzione di mRNA. Ed ecco qui che abbiamo scoperto anche il secondo amminoacido che ci serve per la proteina. Quindi, i ribosomi amminoacido dopo amminoacido, costruiscono quella che è la catena di amminoacidi che diventerà la proteina. Immaginatevi un po' come un gioielliere che costruisce una collana perlina dopo perlina, infilando su un filo perlina dopo perlina, arrivando alla collana completa che è la nostra proteina.